Si è preso nelle scorse ore che a perdere la vita sull'autostrada 4 sono state nonna e nipote accomunate dallo stesso tragico destino, entrambe vittime di un tamponamento violento che ha coinvolto tre auto e un tir, in cui la donna di 58 anni e la nipote 15enne hanno perso la vita, morte sul colpo. Nell'incidente altre 4 persone sono rimaste ferite, in modo non grave.